Direttamente non ha alcuna influenza, è evidente che rende più realistiche le previsioni che sono contenute come sfondo della legge di stabilità in particolare la previsione di crescita del PIL, dopodiché l'intervento della BCE segnala, è un intervento ovviamente positivo ma quando uno va dal medico e il medico gli raccomanda una dose superiore della medicina si può essere soddisfatti perché si spera che la dose maggiore della medicina faccia effetto ma certamente è un indicatore che la malattia non è migliorata. Noi abbiamo un problema enorme di politica economica nell'Eurozona lo shock che anche i sindacati cercano da un governo nazionale non è nelle disponibilità di nessun governo nazionale se non cambia la politica economica nell'Eurozona, l'austerità cieca, la svalutazione del lavoro se non cambiano questi capisaldi della politica economica non ci potrà essere nessun governo nazionale in grado di dare uno shock e quindi non vi potrà essere ripresa dell'occupazione. La mossa della BCE di ieri segnala che purtroppo le prospettive non sono rose come qualcuno dipinge c'è bisogno di un radicale cambiamento della politica economica nell'Eurozona e la presidenza italiana che scatta dal primo luglio questo ha come obiettivo fondamentale una correzione di rotta. Per questo è anche importante che il governo riesca ad andare avanti e faccia sedere a quel tavolo un'Italia credibile, un'Italia che arrivassa a quell'appuntamento dopo un ulteriore giro di consultazione elettorale inconcludente comprometterebbe le possibilità di correggere la rotta.